Ciao a tutti, eccoci qua, partiamo con la trasmissione Magia Strenoria Paganesimo ogni giovedì dalle 15 alle 16 e 30 e dalle 19 alle 20, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno invece su internet Radio Gamma e Federazione Pagana.com barra Radio Pagana trovate l'archivio di tutte queste trasmissioni. Ricordo una cosa importante visto che siamo in periodo di dichiarazione dei redditi, allora la trasmissione invita sempre a destinare l'otto per mille non alle chiese cristiane, non alle varie religioni presenti, presenti appunto sulla dichiarazione dei redditi sul modello 730, il sull'unico, ma di destinarlo allo Stato. Almeno qualche associazione che fa volontariato o si occupa di cose importanti dal punto di vista culturale avrà un piccolo contributo. Seconda cosa, legatevi già a Radio Gamma 5, ricordo il 5 per mille da destinare a Salute e Ambiente che è l'associazione appunto che sostiene e che si occupa moltissimo di aiutare a Radio Gamma 5. Per chi vuole destinare il 5 per mille a Radio Gamma 5, cioè a Salute e Ambiente, il codice fiscale da inserire nell'apposita casella dopo aver fatto la propria firma è 92173660280. Allora, io saluto gli ascoltatori, Claudio non c'è, Claudio appunto si è preso un giorno di ferie e le lasciamo visto che il tempo è un po' instabile, peccato per lui. Ricordo che c'è stato appunto tenuto il rituale di Beltane nell'Alto Vicentino, è stato organizzato un po' di infretta e furia, un po' fra impegni vari, però siamo riusciti quest'anno dopo molti anni che non veniva celebrato Beltane. Perché ricordo che l'ultimo Beltane che abbiamo celebrato, noi come Federazione Pagana abbiamo scelto di festeggiare soltanto gli equinozi e i solstizi, non perché ci sono questi soltanto come riti, ma perché per un problema più pratico, concreto, in cui è un po' difficile avere tempo per molte cose, e allora abbiamo deciso solstizie ed equinozi. Quest'anno, visto che i pagani, i vican sono sempre più numerosi, sono sempre più presenti, sempre più diffusi nel territorio, si è riuscito a organizzare questo piccolo rituale. La cosa che ci è dispiaciuto è che il luogo per il rito era stato devastato prima da qualcuno con una ruspa. Era stato sistemato una bella zona con piante, erano stati creati appunto dei percorsi con delle pietre, c'era dell'acqua, c'era una spirale dell'acqua, e qualcuno ha pensato bene di demolire questo spazio, di andare a fare un atto di vandalismo e vedremo cosa ne sarà di questo tipo. Metteremo il video su internet in cui si dimostra la differenza tra prima e il dopo. Questo posto veniva chiamato dagli amici Vica che lo frequentavano, non solo loro, perché era una piccola associazione che se ne prendeva cura, che aveva lasciato uno spazio anche appunto ai vican per celebrare i loro riti, e appunto la piccola Avanon. E io vi posso dire che nonostante la distruzione del posto era veramente meritevole e veramente bello. Perciò ci sarà anche da ricordare questo e da tenerli informati, però Beltane è stato festeggiato, il rituale è riuscito perfettamente e benissimo ed è stato veramente un rituale intenso e bello. Allora, parliamo di cose importanti. Noi sappiamo che molte volte le persone considerano la mitologia come un qualcosa di secondario, di fantasioso, di inventato, di fantasia. Anche se fosse così non ci sarebbe niente di male perché la mitologia ha sempre una dimensione importante in quanto comunica, fa sentire, percepisce un mondo. Però sappiamo che la mitologia si basa su una cosa concreta, cioè si basa sull'esperienza individuale di tutti, sulle persone che vedono e percepiscono il mondo. E allora, noi abbiamo sempre la tendenza di sentire che le religioni monoteistiche sostengono, dicono di avere un fondamento storico. Sappiamo che questo fondamento storico non c'è. In realtà quello che è un fondamento storico sono i culti degli antichi, sono le loro città, sono i loro racconti. E uno dei racconti più conosciuti, data la nostra cultura, è quello della fondazione di Roma da parte di Enea. Cioè, dico, scusate, dall'inizio della storia romana da parte di Enea, perché poi Romolo fu quello che materialmente tracciò il solco. Allora, molti pensavano e continuano a pensare che questo racconto mitologico sia pura fantasia. Però, Virgilio aveva descritto alcune zone del percorso di Enea. E dopo ricerche archeologiche, la Repubblica, giovedì 26 aprile 2007, è la prova che l'eroe mitologico qui approdò in cerca della terra promessa. Castrum, ecco il porto che accolse Enea. Gli archeologi nel Salento, il tempio di Minerva, descritto da Virgilio. Appunto, Virgilio diceva che partendo appunto dalla Grecia, perché aveva fatto tutta una periclinazione nel mare Egeo, partendo appunto da Troia, il primo tempio che vide, che percepì, che partecipò, fu appunto quello di Minerva. E facendo delle ricerche, finalmente anche questo tassello di documentazione storica ci porta a vedere che il racconto di Enea è un racconto storico, fondato, concreto, che non è soltanto un'invenzione o una fantasia. E questo appunto ci dimostra come gli antichi non erano soliti inventare, ma erano capaci di raccontare con precisione, con dedizione, con cultura, quello che nell'antico accadeva. E allora questa nuova scoperta ci dice che la guerra di Troia, che Enea, che Virgilio, forse non sono solo persone che hanno inventato, non sono solo racconti, ma che in realtà rappresentano qualcosa di più profondo. Ed è anche bello che il tempio di Minerva torni appunto a essere scoperto e che venga appunto riportato alla luce una storia importante, un elemento fondamentale nella nostra storia, nella nostra cultura, e che dimostra quanto antica sia il nostro mondo e la nostra civiltà. Ma c'è un altro segnale che è importante. Allora è uscita una guida un po' particolare. I turisti della devozione e le pietre che curano. C'è in siti 423 comuni, dall'acqua che aiuta la vista alle colonne che promettono fertilità. E anche in questo caso, quando si parla appunto di luoghi sacri, quando si parla di percorsi, quando si parla del genere del luogo, questa ne è un'ulteriore dimostrazione. Certo, molti di questi luoghi sono stati consacrati, sconsacrati, sono stati rovinati, deformati, si è stati appropriati dalle regioni monoteistiche. Ma le regioni monoteistiche non hanno mai attribuito un'importanza intrinsica al luogo, a questo ambiente, a quel luogo specifico. Hanno sempre detto che era soltanto un'appropriazione, che era solo una rappresentazione. Io ricordo che diversi anni fa, il vescovo di Luc Cattolico, di Lourdes, disse che chi andava a Lourdes pensando che fosse l'acqua a guarire, era un pagano. Non sappiamo invece che, a parte appunto le menzogne costruite intorno ai luoghi santi cristiani, tipo quelli di Lourdes, in cui i miracoli avvengono soltanto perché c'è un elemento psichico totalmente forte che riesce a fare delle cose possibili, non impossibili. Perché il miracolo avviene sempre tramite appunto una trasformazione possibile della materia. Bene, il fatto che comunque si pensi di censire, di catalogare, di creare una guida a questi luoghi, anche se deformati o inseriti all'interno di contesti religiosi cristiani, è già un fattore positivo e ci permetterebbe appunto di andare a capire, di andare a comprendere come i nostri territori siano ricchi di cose. Certo che in Italia non esistono soltanto 423 comuni, 423 luoghi, perché ogni comune ha più di un luogo. Importante sarebbe appunto la nostra abilità di andarle a cercarle, di andarle a riscoprire, di farle riemergere, di non farle dimenticare. Ma questo appunto è un impegno per tutti. Bene, queste erano due notizie che dal punto di vista pagano sono importanti proprio perché danno la direzione che si può andare da un'altra parte, che un'altra visione del mondo è possibile, è realizzabile ed è concreta. Perché purtroppo noi pagani ci tocca occuparsi anche dell'attualità. E giustamente partiamo dall'attualità più concreta, proprio partiamo da un comico che all'improvviso è stato tramutato in terrorista. È una cosa incredibile che un comico diventi all'improvviso un terrorista. Io parlo di quello che è successo appunto al concerto del primo maggio, in cui Rivera, un comico abbastanza in gamba, poco conosciuto ancora, ha fatto delle battute, tutto sommato nulla di particolare, perché se andiamo a leggere le frasi attribuite a questo terrorista, come dicono loro, vediamo cosa ha detto in sostanza, perché prima di discuterne vediamo se quello che ha detto è di così grave. E la cosa più strana è che poi le sue frasi sono state riportate in maniera parziale. Perché io questa mattina non ho fatto la resina stampa con i soliti quotidiani, mi sono preso altri quotidiani, mi sono preso, per l'esattezza che così gli ascoltatori sanno cosa ho fatto, mi sono preso la liberazione di rifondazione comunista, mi sono preso il manifesto, mi sono preso la stampa e mi sono preso Libero. Di solito non sono i quotidiani che leggo, io le leggo altri quotidiani. Bene, allora, tutti questi quotidiani, anche quelli che teoricamente dovrebbero essere più anticlericali o meno favoribili alla Chiesa, hanno messo una frase che poi diremo quale, e forse gli ascoltatori la capiranno subito. Allora, l'unico quotidiano che ha riportato queste frasi è Libero. Libero riporta queste frasi, attribuite appunto a frasi belle, poi tra l'altro, è anche veritieri, chi le può contestare? Non fare l'asietto di un terrorista. Il Papa ha detto che non creda all'evoluzionismo? Sono d'accordo, infatti la Chiesa non si è mai evoluta. Non penso che questa sia una bugia, d'altronde la polemica sull'evoluzionismo, a parte che poi l'evoluzionismo è stato recuperato dal disegno intelligente e da altre cose. Però questa non è un'affermazione particolare, è una battuta anche tranquilla, giocando sul fatto che le persone sono capaci anche di trasformarsi, cosa che il monoteismo impedisce alle persone di trasformarsi. Ma passiamo ad un'altra frase, che poi è stata riportata, è stata tagliata anche dai quotidiani che vi ho citato. Dicele, sempre Rivera, Non sopporto che il Vaticano abbia rifiutato i funerari a Guelby. Invece non è stato così per Pinochet, Franco e per uno della banda della Magliana. È giusto così. La frase censurata, sparita, che nessuno ha più riportato, a parte i siti internet e il quotidiano che ho visto io sullo libro, la riporta, Assieme a Gesù Cristo, non c'erano due malati di Sla, ma c'erano due ladroni. Certo che questa frase ha un significato, un'importanza consistente, e anche bella perché dà delle prospettive. Il fatto stesso che si scelga nella sua morte, che sarebbe il suo massimo trionfo, secondo la follia della teologia monotenista, il fatto che ci sono due ladroni ci darà da pensare, da discutere. Ma qual è stata la replica del Vaticano, della Chiesa Cattolica? Il sfronto è a queste frasi. Anche questo è terrorismo. È vile e terroristico lanciare sassi, questa volta addirittura contro il Papa, sentendosi coperti dalle gridi di approvazione di una folla facilmente citabile, ed usando argomenti risibili, manifestando la solita sconcertante ignoranza sui temi nei quali si partirebbe di intervenire pur facendo tutt'altro mestiere. Certo che se dovessimo parlare di umorismo, questa è una frase più umoristica delle altre. Scusi, perché uno non può rispetto, è forse falso, che Welby non è stato sepolto, secondo le richieste di alcuni, con rito cristiano o con la Chiesa Cattolica che generava il Fulianali? E' chiarissimo che è stato ammesso. E' forse falso che Pinochet, un adazzo di secondo insieme, l'esploratore della Spagna, ebbe i massimi interessi nel difendere la Chiesa Cattolica? E' forse falso che uno della banda della Magliana è stato sepolto in chiesa molto importante? Lo dice a uno servizio della televisione. Eppure, tutto questo, questa frase così semplice, non detta dall'indascosto, non detta chissà dove, non detta da terroristi che si nascondono, ma detta davanti a centinaia di miliardi di persone, ha dato dal terrorista a questo comico. Quando ha detto delle cose ovvie, scontate, ma d'altronde dire la verità o dire i fatti come stanno, non danno sempre un problema. Ma qual è quello che ha colpito la Chiesa Cattolica? La Chiesa Cattolica e i cristiani non si sono arrabbiati tanto per il discorso di Guelbi o di Pinochet di Franco, non è questo. Difatti, questa frase, assieme a Gesù Cristo, non c'erano due malati di Sla, ma c'erano due ladroni. Questa frase, bella, veramente meritevole, e che fa comprendere che questo comico ha detto una verità fondamentale, ha detto chiaramente che il Cristo, l'immagine di Cristo, serve solo per depredare, e nel momento del suo trionfo si sceglie per affermarsi, per dimostrare la sua potenza, la compagnia dei due ladroni e nei fieri. Questa frase, la ripetiamo, assieme a Gesù Cristo non c'erano due malati di Sla, ma c'erano due ladroni, è stata completamente omessa da liberazione del manifesto. Il che, forse, perché Bertinotti è andato sul Monte Alto, sul ritiro ospettuale. Eppure è una frase importante, perché tutto quello che il monoteismo fa, tutto quello che la figura criminale di Gesù Cristo insegna, è proprio quella di derubare, è proprio quella di portare via le possibilità, le risorse, le fiducia, è quello di togliere l'energia all'uomo, di togliere l'energia alla società, di togliere qualsiasi capacità all'individuo di diventare se stesso, di che essere capace di pensare, di ragionare. E da tornare questa è la frase che in realtà ha dato fastidio. Ma perché si è scelto poi tutto sommato di attaccare una festa, perché frasi del genere non ne vengono dette. E comunque ricordatelo, Rivera con la sua battuta ha detto una cosa chiarissima, Gesù Cristo è stato sepolto nel suo trionfo sulla morte con due ladroni. Ma c'è stato un altro fatto che mi ha fatto pensare, che mi ha fatto dire effettivamente accolto nel segno, quando, tutti sapete il fatto di cronica, che è successo appunto a Roma, in cui nel metrò una ragazza è stata uccisa in maniera barbara. Bene, in chiesa, il sacerdote che ha celebrato, ha chiesto a questi genitori di perdonare immediatamente. Io penso che ci voglia molta crudeltà, bisogna essere molto, ma d'altronde, quando si ha come esempio negativo una figura criminale e mostruosa come quella di Gesù Cristo, si può benissimo assicurare con le persone. Io penso che ci sia dell'atroce nel dover chiedere a una madre che perde una figlia in una maniera così incredibile il fatto che deve perdonare. E c'è da ammirare questa madre che in chiesa ha urlato a risposta a questo sacerdote non la perdonerò mai. Come vedete, anche questa volta il Gesù sepolto tra i due ladroni ha funzionato. Si toglie il diritto, si toglie il sentimento alle persone di protestare per l'ingiustizia che ha subito. Ma questa frase, questo ripetere così ossessivo del perdono è una cosa caratteristica. Mi ha fatto ricordare un altro particolare, un altro particolarmente brutto, ma che dimostra la malvagità di un monoteista. Tutti quanti chi ascolta questa radio si ricorda di Bhopal. quando una nube tossica uccise migliaia di persone e ne ferì e ne portano con le conseguenze altre centinaia di migliaia. Arriva lì un mostro, un mostro chiamata Madre Teresa di Calcutta. Scese col suo volto e con la sua calma dall'aereo e quella fu la prima parola che si rivolse verso questi disgraziati, questa gente che aveva così sofferto e così colpita. Non gli disse voi dovete avere giustizia, no, perdonate, perdonate, perdonate. Allora è giusto quello che ha ricordato Rivera. Gesù è stato sepolto tra due ladroni perché è un ladrone dell'esistenza degli altri. Chiede agli altri di rinunciare anche ai sentimenti base, anche ai sentimenti più semplici. Come si può chiedere a una madre di perdonare l'assassina di sua figlia? E perché si deve chiedere questo? Io penso che noi come uomini, come donne, tutti chiederebbero giustizia. Tutti direbbero è una cosa crudele quella che è successo. Non possiamo pretendere di cambiare i sentimenti degli altri. Se questa madre giustamente sente odio, sente rancore, non è in grado di perdonare. Noi dovremmo comprendere questo sentimento perché li deriva da una cosa fondamentale. Eppure, su esempio del buon Gesù sepolto tra due ladroni, c'è qualcuno che gli dice rinuncia anche alla rabbia per aver perso una figlia. E questo è il minimo che possa fare chi si richiama a una figura così mustuosa come Gesù Cristo. Ma perché, dicevamo, si è fatto così scandalo per una frase tutto sommato, a parte appunto questa su Gesù Cristo che è sviluppata dal punto di vista intellettuale e da una profondità. Perché si è fatto così scandalo? Di fronte a una manifestazione registra dai sindacati. Tutti sanno che i sindacati rappresentano un'attività inconsistente in cui hanno dei grandi benefici per non parlare del TIFIER. Ma perché? Questo grande concerto perché poi di politico di sostanzioso di solito non sa granché si è scelto l'appallino di attaccare questa manifestazione. Perché esiste una realtà e bisogna dare merito bisogna riconoscere le cose bisogna essere sinceri. Esiste la CGL Scuola che si dà molto da fare sul discorso degli insegnanti di religione. Abbiamo già ricordato di recente come la CGL Scuola abbia dimostrato che negli esami di ammissione degli insegnanti ai vari ruoli i più impreparati i più ignoranti sono gli insegnanti di religione. ma cos'è successo che può aver scatenato la volontà di ripicca? Prendo io formulo un'ipotesi logicamente però come sapete essere maligni il più delle volte si azzecca le cose. Allora Corriera della Sera mercoledì 25 aprile La CGL e i professori di religione non diano voti agli studenti i gruppi cattolici abbiamo diritto a valutare i ragazzi lettera del sindacato a tutti i docenti preparatevi a battaglie illegali Allora cosa è successo? Che un sindacato una volta tanto che si accura dei propri iscritti e non solo dei propri iscritti ma anche delle persone con cui si ha a che fare con persone molto importanti sceglie di schierarsi non dalla parte di un potente come il Vaticano e la Chiesa Cattolica ma di schierarsi dalla parte dei ragazzi Allora scrive il Corriera della Sera mondo cattolico CGL ai feri corti lo scontro verte su un aspetto della vita scolastica apparentemente secondario e il giudizio del prof di religione può essere decisivo nella bocciatura e promozione della missione agli esami di stato di un ragazzo ecco allora la CGL scuola è tornata all'attacco e si tratta a fare in questo senso è ben fatto e va ringraziato un sindacato quando è capace di comprendere che l'insegnante di religione non sono migliaia di persone che sono lì a stradare il posto ma che fanno danni verso i bambini verso i ragazzi allora questo particolare in cui ci dice no una persona non può essere valutata non si può dare una valutazione a uno studente che sta formando la propria cultura sulla religione perché la cultura non è religione monoteistica il monoteismo insegna l'ignoranza e la fede il monoteismo è l'esaltazione sempre di ogni ignoranza di ogni fede e di conseguenza di ogni intelligenza e se noi dobbiamo essere intelligenti se vogliamo dei ragazzi che siano capaci di vivere che abbiano una cultura non possiamo sottostare la loro formazione alla volta di un insegnante di religione questo succede appunto il 25 di aprile corrida della sera e fatalità un concerto organizzato anche dalla CGL viene un attimino di un centro dello scandalo viene essere considerato come qualcosa di terroristico di avversivo proprio perché anche in questo caso il Gesù che muore tra i due ladroni che è considerato la massima espressione della morte sulla croce dal monoteismo della chiesa cattolica rappresenta una cosa importante rappresenta la volontà di derubare anche i ragazzi della loro libertà della loro intelligenza voi sapete appunto che i ragazzi si chiedono sempre il perché delle cose vogliono vorrebbero capire e cosa possono capire da chi gli dice abbi fede esalta l'ignoranza lascia perdere non cercare di capire non cercare di comprendere ebbene e ora sapete che forse uno dei motivi per cui qualcuno ha deciso di sollevare uno scandalo su delle affermazioni tutto sommato scontate è perché vuole impedire a qualcuno in questo caso la CGL Scuola in cui va il nostro il mio personale ringraziamento per questa battaglia perché non è una battaglia estemporanea non è una battaglia fatta in questi ultimi momenti questi ultimi secondi ma sono anni che la porta avanti e probabilmente gli insegnanti hanno compreso quanto sia pericoloso sottomettere i ragazzi bene perciò cercate di capire da cosa può essere sorto questo fatto da questo collegamento da questo clamore perché qualcuno dice delle cose vere ma pensate che la mania di accusare gli altri di essere terroristi è una mania che ultimamente si è scatenata da parte di tutti della Chiesa Cattolica dei vari monoteisti leggo dalla Repubblica del 24 aprile 2007 aborto l'anatema del Vaticano è il terrorismo del volto umano qua si arriva al punto della cosa più semplice la cosa più simpatica per loro è dare del terrorista qualsiasi cosa ma d'altronde ricordiamo che l'unico terrorismo che esiste è il terrorismo che il Dio di tutte le ragioni monoteistiche fa ma perché non si vuole che gli altri siano all'altezza di quel Dio ma poi dare del terrorista a persone che difendono l'aborto cioè il diritto delle persone delle donne di decidere la loro esistenza sul fatto che le donne possono scegliere l'aborto anche per non creare sofferenza al mondo perché chi è della parte del monoteismo reputa sempre le donne infedeli indegne e secondarie e questa è la caratteristica di tutte le religioni che sorgono dalla matrice monoteistica il quello di considerare sempre male una donna e quando si comincia a discriminare una persona soltanto per la sua sessualità soltanto per le sue caratteristiche qui siamo veramente in un campo veramente di atrocità incredibile eppure arriva l'aborto arriva l'abaticano e dice che è terrorismo dal volto umano certo bruciare le persone nel suo rogo non è terrorismo no lo si fa per la loro salvezza per la loro vita futura per il loro bene e quello non è terrorismo no quello è veramente è amore cristiano d'altronde è il mostruoso Gesù Cristo che ha insegnato questo che ha detto questo che è quello di terrorizzare le persone ma voi pensate poi un'altra cosa la Chiesa Cattolica si è arrabbiata con l'Unione Europea di sé infatti il caro attacca la UE la Chiesa non è omofpica cioè la Chiesa non è che ce l'abbia il suo colloquio omosessuale ce l'ha con tutti d'altronde recentemente ha dichiarato la frase purtroppo non ho fatto tempo a fare la rassina stampa però ve la riporto più o meno nel suo contenuto significativo dice che hanno dichiarato che il progetto di salvezza di Dio non può essere formato dagli uomini che significa che se voi siete considerati peccatori se voi siete considerati delle persone da salvare anche se non sentite questa necessità anche se non vi sentite peccatori sarete costretti a essere salvati e ora in questo momento si reputano di fare le crociate fanno le crociate soltanto sulle parole sull'imposizione della politica però nel momento in cui qualcuno passerà all'applicazione di concetta dei dettami della chiesa cattolica sicuramente voi non potrete sfuggire al progetto di salvezza di Dio ed è quello che il monoteismo vuole fare cioè quello di imporre agli altri perciò adesso si dice si arrabbia se qualcuno gli dice ma guarda che Gesù è stato sapore tra due ladroni si arrabbia passerà qualche po' di tempo e sicuramente potranno fare ben altro o forse vorranno fare qualcos'altro allora ma cos'è servito anche il dire e fare delle affermazioni così gravi leggo sempre sul tema dell'aborto il Vaticano terrorista chi propaganda l'aborto appare che non esiste la pubblicità per l'aborto esiste la pubblicità per l'otto per mille in cui si usano immagini strazianti qualcosa di veramente tremendo eppure qualcuno che difende il diritto delle donne alla loro salute a stabilire e a decidere la propria vita si diventa terroristi e sai è un bel sistema di considerare gli altri di dare un valore agli altri e dire appunto che gli altri sono terroristi soltanto perché richiedono il diritto di decidere sulla loro vita e logicamente poi queste posizioni così forti perché usare così a man bassa così facilmente con questa massima tranquillità il termine terrorista indica che poi questi terroristi si dovranno fare le guerre bisogna fare le crociate contro i terroristi che i terroristi in quanto terroristi andranno colpiti andranno andranno sicuramente condannati si potrà fare qualsiasi cosa con l'ascurdo della lotta al terrorismo ed è quello che vogliono fare con l'ascurdo della lotta al terrorismo che d'altronde la parola del terrorismo è il semplice fatto di richiedere di essere libri di dire non siamo sottoposti all'autorità di nessun dio siamo delle persone che vivono in una comunità siamo persone che abbiamo il diritto di manifestare la nostra intenzione e di organizzare la nostra civiltà il nostro stato in base a quello che noi vogliamo no qualsiasi terroristi certo che logicamente quando partirà la guerra al terrorismo tutte le persone che non sono disposte a farsi sottomettere diventeranno motivo di cacciata ma allora di fronte a questo panorama in cui vediamo che i monoteisti in tutte le salse in tutte le caratteristiche perché purtroppo il monoteismo non è soltanto quello cristiano ma è il monoteismo giudaico cristiano cattolico islamico si sta impegnando noi abbiamo che di fronte all'affermazione di un comico si fa un grande scandalo si parte con una crociata moltissimi politici sono pronti lì a inchinarsi a dire povera chiesa che soffre così tanto e poi abbiamo una realtà che per me è incredibile e vi voglio riferirmi agli eroi della Turchia a quel milione di cittadini moltissimi ragazzi che sono scesi in piazza in Turchia per dire né sharia né colpe tra l'altro hanno fatto anche una scelta di campo perché potremmo usare la classica logica il nemico del mio nemico è mio amico no in questo caso ha detto no noi vogliamo fermare sia gli integralisti musulmani e vogliamo fermare anche i militari che parlano di colpe potremmo dire vabbè ci alleiamo no in realtà queste persone sono state più attente allora è forse meglio una società in cui c'è un milione di persone che vanno in piazza per proteggere la repubblica per dire non vogliamo la sharia né il colpe o forse è preferibile gli italiani cattolici che vanno in piazza a San Pietro ad esaltare il diritto del papa a proclamare gli altri terroristi a fare le crociate è forse più avanzata la Turchia dal punto di vista laico che l'Italia cattolica e forse più avanzata appunto ricordate che fare lotta politica in Turchia impegnarsi in questo senso non è certo facile eppure è più avanzata è più europea è più laica la Turchia in cui le persone scendono in piazza e dicono noi non vogliamo la legge islamica sarebbe bello che in Italia ci fosse la disponibilità delle persone a scendere in piazza a ricordare i diritti di tutti i cittadini perché quando si difendono valori principi laici non si difende il singolo ma si difende un'intera comunità si difende ogni individuo che abbia diritto di dire la sua opinione la sua visione del mondo che non diventi impositiva e ora vedrete queste foto di giovani turchi che sfilano in piazza che sfilano in un paese non certo in cui è facile farlo allora è forse preferibile questo milione di cittadini e questi ragazzi che vanno in piazza che dicono noi vogliamo essere laici a chi si piange per tre persone uccise perché andavano in giro a vendere la Bibbia ora quelle tre persone che andavano in giro a vendere la Bibbia certo sono persone che hanno subito una cosa atroce una fine atroce ma andavano in giro a vendere la Bibbia in Turchia per chiedere la sottomissione alle persone per dire alle persone che sono dei peccatori che si devono salvare e forse è migliore questa gioventù turca che ha il coraggio di scendere in piazza e di dire noi non vogliamo neanche i militari noi vogliamo la nostra libertà vogliamo essere noi che decidiamo di essere liberi allora è meglio un giovane turco che va in piazza per la lecità contro le colpe contro i militari o è meglio i tanti cattolici che correranno nel family day per sottomettersi alla volontà al dominio e alle volontà di imporre agli altri una normativa di togliere i diritti agli altri e ora a questo punto c'è da pensare che il monoteismo è uguale in tutte le parti del mondo che il monoteismo islamico nella sua follia non è diverso dalla follia del monoteismo cattolico o cristiano che ci ritroviamo allora che succede che come vedete non è che esista uno scontro di civiltà non esiste uno scontro tra un oriente e un occidente esiste una guerra che si fa qui che si fa in Turchia e si fa in molte altre parti del mondo che è la lotta tra i diritti delle persone degli individui tra i diritti dei popoli delle comunità i diritti dei singoli i diritti di ogni persona di una propria civiltà e chi gli vorrebbe imporre la fede chi gli vorrebbe imporre il dominio chi gli vorrebbe imporre la sottomissione perciò speriamo che anche in Italia ci siano milioni di cittadini disposti a difendere i propri diritti perché quando si parla di difendere un concetto di laicità non si parla di imporre agli altri un qualcosa o di difendere gli altri dei peccatori ma di difendere i propri diritti e di riconoscere agli altri la possibilità di essere liberi allora ed è io voglio proprio risaltare questo fatto della Turchia perché i quotidiani qualcuno ne ha uno spazio pensate appunto che anche la Repubblica ha scritto Turchia Erdogan non si piega alta tensione tra islamici e laici e anche in questo caso come vedete un monoteista uno che si richiama una visione monoteistica non molla pensate appunto sembra che scrive anche addirittura il Corriere della Sera del 26 di 28 di aprile Turchia i laici fermano Gul Gul sarebbe il presidente islamio che vorrebbero leggere in Turchia in Italia quanti laici saranno pronti e disposti a fermare le follie di Ratzinger io spero che siano tanti bene sono le 15.50 attacco le linee telefoniche che vuole intervenire 049 700 700 e 049 7838 poi c'è un'altra cosa che di attualità italiana che vorrei appunto ricordare di cui ne voglio parlare si è pronto? ciao ciao come stai tu? bene stai attento? si si prenderò domani perché proprio andavo di fretta ma ho voluto fare una prova sui quotidiani che devono essere laici per capire questo questi presemi comunque canonici insomma i titoli si ma la frase che dice che Gesù è stato appeso tra due ladroni si esatto si è stata omessa quasi dappertutto ma qui anche se però qua si beh dai un modo positivo se tu pensi che i due quotidiani che ci dichiarano laici come il manifesto e come la liberazione almeno sulle prime pagine l'hanno completamente omessa omessa beh c'è sempre quello che è muovito no l'immagine criminale di Cristo non si può toccare esatto tabù l'estremo ateo l'estremo addio non si può toccare perché se tocca i due poli classici estremi si toccano ecco i qua che ora si capisce come vedete un cerchio che ora è estremità e si tocca gli fa vedere così insomma come che se come che se poi vedete gli fa vedere così e le estremità e mi non ho inciso perché sono comunista mi non ho inciso perché sono Bertinotti se tu devi fare delle scelte e dici ma tu pensi che Gesù Cristo sia un mostro o che sia una brava persona questa è la discriminante cioè non si deve discutere se la Chiesa è brava buona cattiva simpatico antipatica non si deve parlare di un Papa che è più buono o di un Papa meno buono perché io voglio sempre ricordare sai si parlava del diritto verso la propria famiglia ma c'è un Papa Paolo IV che disse se mio padre fosse eretico lo raccoglierai legna per bruciarlo se vai a bruciarlo il tuo padre perché è eretico posso dire vabbè è stato un criminale è stata una persona ma perché è eretico lo brucierei il suo rogo e questo è l'esempio di famiglia cristiana che vogliamo dare insomma e dopo si ben dopo che sempre su su coro però Rivera ha detto che si io lo va a criticare no so il coagliere ha scritto io ha criticato a me sono cattolico gli ha detto no io mi sento cattolico ma poi cosa ha detto di così forte cosa ha detto di così forte scandaloso appunto cosa ha detto che fa farse tirare il sassi di rio c'è tutto qua insomma non lo so ma cosa che ha detto c'è sta una battuta comica insomma ha detto la verità nel senso non ha detto una falsità che può essere denunciare capito si ma noi ad esempio il papa è un po' berichino non ha detto neanche questo nel senso che potrebbe essere una battuta non ha neanche fatto il funerario a Welby io avevo fatto a Pino Cepo e dirlo l'ho detto fin ieri se lo diceva 100 anni non succedeva niente capito se lo diceva 100 anni non succedeva niente solo perché si era in piazza lui alla piazza capito si era dimostrato come nudi il re è nudo capito il papa si era dimostrato solo vi all'è restata solo con il popolo che ha sentito tutto quanto che diceva il fatto funerario neanche a Welby però l'ho fatto a Pino Cepo e a Franco tutto qua e dopo cambio un attimo si si ho trovato non so se ti credo Eva Cantarella si io tu ti credo Eva Cantarella si l'amore è un dio si lo hai detto si beh è recente è recente si però è strano non è sfuggire anche questo e purtroppo sai sono tante porcherie perché se tu vai in giro vedi tutti quanti gli ultimi libri di Ratzinger e danno un ampio spazio la roba di qualità purtroppo si fa fatica a emergere si a parte che c'era su un angolo che di solito e poi c'era un titolo che non però Eva Cantarella è sempre un'ottima autrice insomma ecco non ho preso questo perché è pieno ma è pieno comunque Eva Cantarella nel senso che è un'autrice in gamba e che merita di essere letta e ti ho detto che se arriva il libro si perfetto il demolo che si è toccato in sorte è il demolo che si è toccato in sorte si è il demolo che ti è toccato in sorte che si è toccato in sorte come se tu hai letto si l'ho sfogliato comunque ci darò un'occhiata è interessante perché è affrontato dal punto di vista del punto di Hillman da sempre una chiave di lettura bisogna tenersi sul demone perché il demone è una roba fondamentale nella nostra cultura occidentale perché proprio in realtà è la nostra passione il nostro animo quello che ci anima che ci porta avanti che ci spinge avanti che non è una cosa che ci capita addosso come il tipo della possessione cristiana è il nostro cuore il nostro intelletto la nostra energia vitale che è il nostro demone non c'entra niente il demone si no perché se qualcuno lo sai la sua deformazione del demone quando si parla di demone si va a intendere sembra qualcosa di negativo si è perché il demone il demone non c'entra niente il demone è una cosa positiva ragazzi non siamo qua purtroppo e parola viene travisata frasi intenzionalmente per spaventare sempre i dei vengono travisati i nomi degli dei vengono travisati tutto viene travisata la storia la storia prima dell'era volgare viene travisata la mistificazione la menzogna è una caratteristica fondamentale lo dice anche lo dice anche sui lettere di freddi l'era volgare appunto l'era volgare insomma ecco bene va bene ciao Ivano ciao 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 si pronto ah la dama 5 si dama 5 aspetta che sbasso la radio un pochino perché sento un gran rumore si fischia ancora però dimmi pure pronto? si mi voleva un'informazione se io voglio lasciare il 5 per mille a gamma 5 cosa basta? allora se tu hai il CUD hai il 730 hai l'unico cosa da dacco? la pensione dopo un reddito tu fai la declarazione di redditi tu fai la declarazione di redditi si faccio la denuncia di redditi allora tu devi dire al tuo commercialista o al CAF che ti rivolgi si beh io vado dei sindacati ecco tu vai al CAF allora al CAF dici che il 5 per mille lo vuoi dare a salute ambiente e il codice fiscale è 9,2 1,7 3 non voglio neanche una penna qua comunque va beh casomai senti io dopo lo ricordo più tardi va bene? va bene lo ripeto dopo anche va bene? si se no devo andare giovedì prossimo faccio in tempo per assidermi preparo la carta posso lasciare tutto il 5 per mille a gamma 5 se voglio si saluta ambiente assoluta solo a gamma 5 si si cioè tu dici io va bene comunque forse l'ora a telefono mare perché adesso non ho la penna devo fare le scale ma non ti preoccupare casomai verso le 4 e mezza lo ricordo si poi la capisco anche male un po' va bene bene ciao buongiorno ciao allora queste informazioni tecniche necessarie e doverose ora tornando appunto all'attualità alle cose che stavamo trattando e dicendo si si pronto pronto? si ciao Guido ciao sono Guido San Piero dimmi tutto ecco niente ho constatato che ogni volta che succede un fatto di sangue in occasione dei funerali della vittima i preti ne approfittano per farsi belli invitando i familiari che sono ancora sotto shock per il dolore patito non lo hanno ancora metabolizzato invitandoli al perdono cioè mi pare che sia una intrusione nella sfera dei sentimenti figliacca perché approfitti di uno stato di debilitazione psicologica per imporre le tue idee basate sul perdono dove trova giustificazione il perdono i preti ti dicono tu devi perdonare mi pare che sia così eh perché anche Cristo ha invitato il perdono la frase emblematica se uno ti colpisce su una guancia tu gli devi offrire l'altra è il massimo del perdono anzi lo inviti a insistere è il massimo del masochismo ecco una forma di masochismo esatto poi ho guardato cosa si intende per perdono il perdono è formato da rafforzativo per e dono è il massimo donativo che tu puoi fare a una persona e qual è il massimo dono quello che tu avresti il diritto di rifarti rendendo occhio per occhio dente per dente rinunci e generosamente gli fai questo dono e questo può essere anche positivo perché può darsi che interrompa una faida perché i familiari di quelli che a loro volta vengono colpiti per appresalia può darsi che lastimino o eccessiva eccetera e a loro volta innescano un processo che non ha fine ma qui sono genitori che chiedono giustizia questo potrebbe essere positivo però il perdono deve nascere spontaneamente tu devi lasciare i familiari della vittima come quelli di quella povera ragazza che è stata uccisa con un'ombrellata in un occhio devi lasciare che siano loro che ripensandoci metabolizzando questo dolore immenso a un dato momento dicano o vadano dal prete in cui hanno secondo me sbagliando fiducia e dire padre non mi trovo bene non vivo bene conservo odio verso quelli che hanno distrutto la mia vita e hanno ucciso la figlioletta tanto amata cioè deve essere un qualche cosa che parte dalla persona offesa e non che parta dal prete ma vedi Guido ma ti sembra giusto che di fronte al dolore di una madre o di un padre è uno sfruttare ma ti sembra giusto chiedere cioè dire secondo te una madre può perdonare un padre può perdonare o lasciare perdere il fatto che gli abbia un ucciso il figlio perdono è una bella cosa ed è legittima ma deve partire spontaneamente da parte della persona che ha subito offesa non da parte di un prete estraneo che te la impone che specula che specula della sofferenza tra l'altro della debolezza che ne deriva da un'offesa partita per imporle certe idee tratte da un libraccio che non è in grado di capire la natura umana perché sembra che capisca soltanto chi è Dio e basta poi il Dio che loro dicono amore eccetera è lo stesso Dio che non ha perdonato ad Adamo ed Eva un peccato commesso poi non volontariamente perché sono stati creati peccatori in potenza no e gli ha inferto morte sofferenza a non finire è un Dio vendicativo poi non basta il diluvio è stato mandato dallo stesso Dio che schifato della sua creazione non trova di meglio che scaricare il suo disappunto su degli innocenti dove sta qui il perdono si pratica il perdono da parte di un prete che ha come datore di lavoro un assassino vendicativo ti sembra è la follia è follia come può educare la religione al meglio l'uomo la religione non educa è sempre peggiore esatto è sempre peggiore questo volevo dire a me mi fa schifo quando sento un prete tutto addobbato di solito gli ha una faccia da maiali i preti tutto addobbato di paramenti che lucicano in ispletto alla povertà predicata da Gesù Cristo per chi ci crede esatto che poi sai non è che vero questo questa intrusione vigliaca nella sofferenza altrui esatto ecco questo mi fa schifo e basta questo volevo dirti sono Guido da Campo San Piero ciao ciao Guido di fatto il punto ho detto chiaramente che qua si chiede sempre a qualcuno di rinunciare anche alla giustizia perché nonostante non si chiede di vendicare la vendetta o di farsi giustizia con le proprie amare si chiede giustamente che di fronte a un dolore così enorme il diritto di avere giustizia e che questo non succede più e invece neanche questo si può disporre proprio perché non si ha nessuna sensibilità verso il sentimento verso il cuore verso la sensibilità delle persone che più soffrono sei pronto? pronto sì velocissimo buongiorno sono velocissimo io voglio parlare del matrimonio che quando c'è si sposa se non c'è il figlio non c'è matrimonio neanche la sacra rotta mette matrimonio se non ci sono rapporti per cui il figlio è il matrimonio ogni figlio c'è matrimonio quando che Pagnasco parla di copi di fatto difatti guarda Alessandro quando fanno il celebro del matrimonio dicono che chi non avrà figli deve essere buttato nel fuoco come legna da ardere sì ma siccome che Pagnasco gritta che i matrimoni dice mia c'è il dico cioè il fiore e le fatti c'è la cazza che fa io ma le matucano e si chiama il terrorismo ma io stai già in Italia io stai già in Europa e io metterò quelle parole matematiche cioè non sa neanche cosa fa e poi che dire terrorismo è una parola gravissima terrorismo Alessandro ha ragione grazie 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 effettivamente sai Alessandro ha perfettamente ragione quando dire che i cristiani venivano considerati dell'antichità folli perché proprio portano alla follia è una follia sia che contamina le persone sia che contamina la società e di conseguenza in questa follia si va avanti ma d'altronde stesso il grande Agostino così esaltato da Ratzinger diceva chiaramente che il cristianesimo la sua forza è la follia si è pronto? si è pronto? mamma mia di prima categoria beh insomma come dice Pantozzi insomma un allegrone può essere anche no? ma di che volta ne ha sparte tantissimo basta vederlo da un certo punto di vista però hanno detto che mica era il paico no no ho detto era di Berlino forse anche ma del Polo Nord era un eschimese eh? era un eschimese esatto un eschimese era un inuit comunque quelle che l'altro giorno sono state ammazzate poverette andando a messa e avevano chissà il karma sai alle volte eh? come mai? sono state ammazzate è un miracolo è un miracolo ma stavano andando a messa peccavano stavano peccando stavano a messa io mi ricordo sempre cosa disse un prete di fronte a decine di bambini morti ma forse Dio aveva bisogno di Angeletti ho capito capito mia Francesco ti abbraccio ti saluto ciao e facciamo le corna va? bene ciao Gianpaolo no di fatti appunto è sempre questo comportamento nel pensare sempre ogni emotesimo ha questa caratteristica che tutto sia merito tutto sia dovuto da Dio e bisogna fare i salti mortali per cercare di salvare questo Dio di fronte anche alla follia le cose incomprensibili i teologi tirano le cose le cose più astruse più strane le cose incredibili cioè proprio se non si avesse questo rispetto che si viene dalla nostra cultura verso il monoteismo potremmo prenderlo come un fattore comico purtroppo le persone credono a queste cose sì? pronto? sì ciao ciao Francesco ciao allora io dico io mio pronto? sì mi si dopo l'illuminante periodo storico dove i cieli d'Europa erano rischiarati dai rovi di migliaia di donne condannate con prove false di colpevolezza che per intensità estensione geografica e durata è paragonabile solo all'olocausto per queste donne non c'è stato il perdono no non hanno perdonato no perché erano peccatrici mi senti? per telefono mi senti adesso? non c'è stato perdono per queste ragazze per queste donne? no assolutamente no come mai? no perché loro hanno chiesto perdono hanno chiesto mi senti? sì malamente mi senti adesso? ecco sì sì era il telefono loro hanno chiesto perdono al Dio per gli errori commessi nella propagazione della fede cioè hanno fatto delle cose buone ma nel senso che l'intenzione era buona poi li è riuscita male ma li è riuscita male perché non le hanno bruciate tutte capito? eh però la loro non vale eh cioè ma loro non devono chiedere perdono di questo ah no? no? ma non come mai? è diverso il discorso? ma l'hanno fatto per la loro anima per la loro salvezza ah ho capito allora ci sono due pesi e due misure sì esatto ci sono due pesi e due misure chiamiamoli così sì veramente va bene ti ringrazio bene ciao 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 sì difatti tutte le volte che ci vengono a raccontare che i vari papi la chiesa ha chiesto perdono assolutamente non è così loro hanno detto che gli errori furono commessi con la migliore intenzione e che gli errori non erano attribuibili al fatto che si richiamassero un Dio ma erano le persone che applicavano le cose in maniera errata ma poi anche queste cose applicate in maniera errata non è una forma di scuse e l'hanno detto chiaramente rientra nel discorso della strategia ecumenica nella strategia diciamo di propagazione perché se le persone tendono a non sottomettersi bisogna se non si ha la forza se non si può bastonarle se non si può bruciare bisogna in qualche maniera riportarle all'ovvile e allora cosa si fa? è come quando un pescatore va a pescare ad altronde Gesù diceva farò pescatori di uomini si butta la pastura affinché il pesce si abitui ad abboccare poi si butta l'amolo si prende e lo si uccide e appunto tutta la visione motoristica rientra in tutto questo campo che esiste la tesi e l'ipotesi e d'altronde visto che le cose le persone non sono così disposte a sottomettersi bisogna che gli raccontiamo un qualcosa poi sono infallibili perciò quello che dice un Papa dice vabbè io dico questo e voi mi dovete credere perché io ho l'autorità è come la dichiarazione che ha fatto Ratzinger sul recente libro sul pazzo di Nazareth sulla figura criminale di Cristo diceva mi potete criticare ma nella vita, nella cultura è normale che qualsiasi cosa possa essere sottoposta a critico possa venire criticata no, vi concedo dal potere che ho dice lui vi concedo la possibilità di criticarlo e già il dover affrontare le cose in questa maniera vi fa comprendere come se la prospettiva con cui tutti i monoteisti monoteisti ricordiamo cristiani, ebrei, cattolici e musulmani hanno l'intenzione di affrontare le cose prima di tutto vi chiedono la sottomissione poi vi chiedono il rispetto e cos'è per loro il rispetto? non è per me il rispetto è quando con una persona discuti accetti la persona però non devi accettare le sue idee ma rispetto per loro significa che non puoi neanche criticare le loro idee non puoi dirle no quello che state dicendo è una cosa atroce no, la vostra è follia no, perché questa per loro è mancanza di rispetto in realtà quando dicono rispettatemi vi chiedono di sottomettervi ed è questa la loro intenzione si, pronto? si, ciao Francesco Adriano ciao e vogliamo parlare delle banche vuoi parlare delle banche? le banche sono controllate dalla chiesa che hanno delle buone partecipazioni nazionali quello è il suo segno hanno delle buone partecipazioni nazionali e hanno una buona presenza diciamo che sono controllate dalla chiesa tutte beh sai quando l'Azinger è venuto a Verona era anche perché c'era in corso una grossa fusione bancaria da fare a Verona certo però tutti questi sistemi in cui viene trattato in un modo il poverazzo diciamo si a quale magari neanche cambiano un assegno da 50 euro a meno che tu non abbia delle conoscenze all'interno della banca e invece il riccone per dirla così beh quello può avere tutte le agevolazioni in questo mondo secondo me la chiesa ha responsabilità gravissime in questo ha preparato una cultura di questo tipo certo secondo me anche il discorso top rate cioè gli interessi diciamo sui massimali più alti più alti prime rate cioè su tutte le ingiustizie alla fine create da questi religiosi che vogliono creare appunto in quanto hanno dell'interesse nel farlo un sistema in cui chi è meno abbiente quindi ha più problemi nell'affrontare quella che è appunto tutta una serie di problematiche quotidiane sia castigato messo in ginocchio mentre chi invece ha può non solo tra parentesi adriano mi senti? non facendo qui un discorso di politica adriano mi senti? si io ti voglio ricordare ad esempio una cosa che pochi hanno ricordato proprio in questo periodo si parlava del corso della lotta contro la schiavitù e si dice che uno dei maggiori se non mi ricordo il nome era un protestante inglese questo protestante inglese si dice si dice è molto da fare per cancellare la schiavitù ma si dice è molto da fare anche per cancellare le leggi contro l'usura sì 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 cioè capito perché liberava gli schiavi ma poi sottometteva con l'usura esatto quindi ma alla fine se non è il popolo dalla base che si ribella Francesco secondo me tutto questo possiamo andare avanti a parlarne possiamo andare avanti a parlare sull'informazione della stampa del manifesto piuttosto del Corriere della Sera piuttosto del TG1 o del TG5 o di questo o di quello ma deve partire dalla base una vera rivoluzione ma non l'importante è che non siamo coerenti ma non intesa rivoluzione a prendere il fucile o la pistola hai capito perché Stalin alla fine togliendo tutti i beni della chiesa in Russia e facendo anche fuori quei preti corrotti vescovi cardinali che fossero stati alla fine non è successo niente perché la maggior parte della gente poi è ritornata in quello che è il marzo del sistema deve cambiare la cultura delle persone la cultura esatto ma io trovo che siamo tutti impotenti di fronte a questo a questo sistema diciamo di corruzione estrema qui veramente io penso che la chiesa e tutti i beni che ha la chiesa e tutti i privilegi uno stato democratico dovrebbe comunque prendere questi beni queste opere d'arte che ci sono non solamente nelle chiese ma diciamo anche tutti i parchi le grandi ville di proprietà eccetera e portarle allo stato e in questo modo cioè proprio al massimo questi religiosi dovrebbero prendersi cura di mantenere che ne so i libri contabili i registri tenere in ordine che ne so queste opere d'arte al massimo ma non continuare a fare della violenza discriminatoria in questo modo cioè questo io non riesco ad accettarlo l'unica roba da fare è ognuno pensare a se stesso e cercare di fare il massimo affinché questo sistema corrotto possa quantomeno vacillare così minimo più in bilico di quello che è attualmente che è una cosa vergognosa a mio avviso comunque l'importante è che noi facciamo quello che noi possiamo fare e che siamo coerenti almeno in qualcosa non possiamo fare nulla per la società ma possiamo fare per noi nel nostro piccolo questo perché questi continuano a mettere in ginocchio i bambini è la cosa più terrificante quella dei bambini dell'insegnamento religioso nelle scuole la politica in questo ha delle gravi responsabilità soprattutto la politica della sinistra a mio avviso che continua ad andare a braccetto con questi personaggi ma guarda che tutta la politica perché se tu pensi cosa significava essere liberali nell'ottocento cosa significa essere dei liberali adesso attualmente io parlo di politica in senso di sinistra radicale in quanto vedo che sono gli unici che comunque rispetto a quello che è il mio ideale quantomeno mi vengono un minimo vicino a quello che penso io di ridistribuzione io non ho nessuna fiducia in tutta la politica io non ho fiducia nei politici io ho fiducia in un ideale qual è l'ideale che si avvicina di più alla ridistribuzione al reddito della ricchezza del capitale che attualmente è una cosa scandalosa in Italia non solo è fatto appunto che tutti continuino a dare forza a certi politici di centro di destra e non a fare invece la politica seria all'interno degli schieramenti di sinistra rompendo i coglioni scusa il termine a quelli che pur rappresentando il cosiddetto popolo non solo comunisti e invece continuano a fare la politica in maniera demagogica non esistono idee non esistono l'idea deve essere compita con il popolo e con il popolo esistono persone esistono individui e si valuta sempre le persone al di là della propria idea della propria posizione non esiste un'idea che cambia le cose esiste la persona che è capace di capire se stessa esistono persone brave dappertutto e capaci dappertutto se mi dici ci sono persone brave all'interno di schieramenti neofascisti ho qualche perplessità io posso dirti comunque che ci sono dei politici più o meno attenti per i deboli per i più poveri però all'interno di schieramenti a sinistra dovrebbe partire dalla base a rompere i coglioni anche di liberto anche a erizzo anche a tecoraro scanio a chi vuoi a bertinotti fai tu i nomi non mi interessa perché loro comunque dovrebbero comportarsi come il popolo il meno ambiente quello che ha fatica a chiedere un finanziamento alla banca perché non hai appoggi perché non hai nessuno mentre danno a destra e a manca a chiunque abbia già alla base un po' di patrimonio questa per me è una discriminante che non si può accettare no ma infatti l'ingiustizia sociale è presente i politici dovranno rispondere al popolo perché succederà qualcosa sicuramente a mio avviso succederà qualcosa bene grazie ciao ciao Adriano io sono sempre scettico nel rispetto ai politici io non penso che sia un politico che sia capace di interpretare in questo momento le idee delle persone noi dobbiamo imparare a non delegare dobbiamo imparare sempre a essere attenti alla nostra visione del mondo della nostra sensibilità non dobbiamo pensare che esista uno schieramento un partito un uomo politico capace di questo noi dobbiamo essere coerenti e noi dobbiamo batterci lottare per questo non possiamo pensare di trovare sponda in qualche altra parte io dico sempre che quello che è fondamentale sono le persone se una persona a qualità non se la si valuta per le idee ma per lo stile di vita e avere fiducia nella politica in questo momento è la cosa peggiore perché proprio i politici sono abituati da una visione cristiana a sottomettersi a chi rappresenta l'autorità cioè la Chiesa Cattolica e questo lo fanno tutti i partiti dall'estrema destra all'estrema sinistra perciò se le cose cambiano possono cambiare è perché noi cambiamo e siamo capaci di intervenire e di modificare questo Trattone sai quando Bagnasco lancia o l'osservatore romano dice i politici i cattolici seguono la CEI non abbiamo nessun politico che si straga a questo e poi abbiamo qualcos'altro che nessuno è disposto a sottrarsi ai valori cristiani tutti sono pronti ad assecondare i valori cristiani tutti sono pronti a dire che la Chiesa ha diritto di parlare tutti sono pronti a dire che esiste una cosa di fondamentale qualcosa di importante che la Chiesa dà i valori in realtà finché si continuerà a ragionare che i valori vengono dati dalla Chiesa Cattolica nessun politico sarà capace di fornire informazioni di fornire elementi di dare un qualcosa di positivo e allora di fronte all'opportunismo dobbiamo imparare a non illudersi perché la cosa peggiore sarebbe quella dell'illusione allora quando qualche politico può avere delle dichiarazioni che ci sono vicine o ci possono sembrare piacevoli cerchiamo di capire se abbia il coraggio della radicalità cioè della capacità di dire di andare al fondo dei problemi perché è inutile che noi affrontiamo un aspetto secondario un aspetto marginale e non affrontiamo il nocciolo e questa è una cosa che noi dobbiamo fare sempre non dobbiamo prendersela con la Chiesa perché è ricca e povera non dobbiamo prendere quel Vaticano perché ha soldi o perché ne ha troppi dobbiamo capire qual è il meccanismo culturale qual è il meccanismo ideologico qual è il meccanismo che porta le persone alla sottomissione e ora le persone non sono sottomesse perché esiste una Chiesa che ha soldi o che controlla le banche le persone sono sottomesse perché da duemila anni esiste una cultura della sottomissione da duemila anni c'è una figura criminale come quella di Gesù Cristo che permette a qualcuno di sottomettere gli altri e questo è l'elemento fondamentale più pesante noi non dobbiamo preoccuparci di denunciare le ricchezze o le incongruenze della Chiesa noi dobbiamo dire che le persone sono fregate sono sottomesse sono fallite perché c'è un'immagine che gli viene proposta in tutte quante le salse è dell'immagine negativa mostruosa di Gesù Cristo è quella appunto che frega le persone perché si viene a raccontare che aveva un messaggio rivoluzionario che diceva delle cose belle poi in realtà se vi andate a leggere le dichiarazioni di questo folle e folle appunto è al di là che non è mai esistito ma è l'immagine che si è raccontata tutti di fronte a questa immagine così perverse così feroce non ha il coraggio di dire no l'immagine di Cristo è un qualcosa che non mi appartiene è qualcosa che non sento è un qualcosa che è pericoloso nessuno ha questo coraggio questa volontà e allora vogliamo affrontare i problemi in maniera radicale in maniera chiara o vogliamo limitarsi ad affrontare quello che ci viene preparato e configurato non esiste destra centro-sinistra non esiste qualcos'altro che possa dividersi ci possono dividere due schieramenti se noi siamo per la sottomissione o se siamo per la libertà allora quando facciamo una scelta dobbiamo capire come si sottomettono le persone certo esistono gli strumenti bancari per sottomettere le persone esiste la polizia per sottomettere le persone esistono delle leggi ma i principi con cui si fanno le leggi liberticide da dove vengono dalla follia del politico che le fa o perché qualcuno ha seminato duemila anni di monoteismo duemila anni di una figura mostruosa come quella di Gesù Cristo se noi non siamo capaci di comprendere questo che nella nostra società anche gli anticlericali anche chi si dichiara contro la chiesa ma le dici cosa pensi dell'immagine di Gesù Cristo lo andrà a dipingere come un rivoluzionario come un liberatore dei popoli in realtà sono tutte menzogne tutto quello che di negativo la nostra cultura occidentale ha prodotto in questi ultimi duemila anni non è la chiesa cattolica non è chi credeva appunto nei suoi valori della chiesa cattolica ma quelli che pensavano in un Gesù buono e finché noi non cancelleremo questo pensate anche il discorso appunto del fatto che ai bambini gli viene insegnato di amare questo mostro che è Gesù Cristo gli viene insegnato che è morto per i propri peccati per il riscatto pensate gli viene proposto l'immagine positiva di un presepe in realtà è più rivoluzionario se volete essere rivoluzionari o è più dirompente o è più sovversivo dire a un bambino non fare il presepe non guardare Gesù bambino non pensare a questo è più positivo questo cambia di più la società la cultura il fatto di dire guarda che l'immagine del Gesù bambino su quel presepe in realtà lì c'è un mostro lì c'è un criminale che insegna a rinunciare alle cose ti insegna a rinunciare a te stesso alla tua intelligenza ti insegna solo sotto missione e quando vi propongono le immagini della chiesa tutti sono pronti a ribellarsi a dire ma io non accetto la chiesa ma quando qualcuno vi propone le immagini di Gesù Cristo siete sempre pronti nella maggioranza delle persone ad accettare questo e finché non si sarà liberati da questo finché non si comprenderà che le immagini di Gesù Cristo è l'insegnamento più perverso che abbiamo avuto negli ultimi 2000 anni ricordatevi sempre la parabola delle mine poi Gesù Cristo dice prendete quelli che non volerono che colori rinassero di loro e sgozzateli davanti a me questo è la base dell'insegnamento cristiano non dell'insegnamento della chiesa perciò impariamo a liberarci da questo mostro nel momento in cui saremo a prendere questa figura criminale di Cristo e di allontanarla da noi dire per noi non vale niente non ha significato non ha potere non ha nessun elemento per noi non ha detto nulla di positivo se noi dobbiamo comprendere il mondo lo possiamo comprendere tramite la nostra intelligenza tramite la nostra abilità tramite la nostra cultura tramite la nostra ricerca è in questo campo che noi dobbiamo essere coerenti è in questo campo che noi dobbiamo agire non possiamo pensare che le cose cambino perché gli altri cambiano dobbiamo essere noi a cambiare noi non dobbiamo preoccuparsi degli altri l'importante è che noi non siamo sottomessi e che noi dobbiamo assolutamente in tutti quanti i casi dimostrare che lottiamo per la libertà soltanto facendo questo le cose potranno cambiare non preoccupiamoci che esistano migliaia di politici pronti a correre dietro le sottane di Ratzinger perché Ratzinger è soltanto una manifestazione del potere di dominio che il monoteismo ha sviluppato negli ultimi 2000 anni e questo monoteismo non ha valenze positive non è migliore monoteista cristiano o cattolico è inferiore a quello islamico o quello ebreo sono tutti monoteisti e il loro dominio e lo scopo della loro attività è quello di imporsi sull'uomo e quello di negare la vita perciò noi che viviamo in un ambito occidentale impariamo a dire che quando le persone vi propongono l'immagine di Gesù Cristo e delle sue parole è soltanto per ingannarvi per sottomettervi e se non saremo capaci di rifiutare questa immagine mostruosa che è l'immagine di Cristo noi potremo essere liberi poi se qualcuno sceglierà di sottomettersi sappia che lo può fare l'importante è che non venga a imporlo agli altri per il monoteismo ricordatevi non vi potrà mai lasciare in pace se c'è una lotta che dobbiamo combattere e che combatteremo sempre e finché sarà presente nella nostra civiltà il monoteismo noi saremo sempre in pericolo perciò ogni giorno in ogni momento noi dobbiamo appunto lottare per essere assolutamente liberi e soprattutto dobbiamo capire dove sta l'inganno e l'inganno con cui le persone vengono sottomesse adesso non è il potere della chiesa ma l'immagine criminale di Gesù Cristo bene purtroppo siamo al fine non c'è più tempo io vi lascio in compagnia degli altri conduttori ci sentiamo questa sera dell'ora 19 alle ore 20 assieme a Detro che si parlerà del mondo celtico ciao a tutti ciao a tutti